I nostri settori di eccellenza rimangono tali, se in questo momento sono in difficoltà non è perché non siamo competitivi in questi prodotti come le piastrelle, i rubinetti, i mobili, i marmi, ma perché c'è un problema di crisi dell'edilizia, del settore immobiliare a livello mondiale in paesi ancora molto colpiti come gli Stati Uniti, la Spagna, la Gran Bretagna che sono i nostri importanti mercati. Siccome la ripresa dell'edilizia sarà lenta, paradossalmente pur essendo forti in questi settori avremo di fronte una ripresa un po' più lenta di quella della Germania per esempio che esporta prodotti di lusso come automobili di grande cilindrata o tecnologie particolarmente sofisticate come treni superveloci, turbine o d'altro e quindi è la nostra specializzazione che in qualche modo in questo momento non viene valorizzata, ma tuttavia non dobbiamo rinunciare a questi settori che rimangono per noi fondamentali.